Siamo in Italia, abbiamo la capacità di costruire ma abbiamo anche la capacità di sognare e questo è un sogno. Oggi il nostro sogno è quello di far sì che Immagine Italia diventi la prima manifestazione di settore a livello mondiale. La proiezione di un filmato prodotto da TVL ha aperto l'incontro per presentare l'edizione 2010 di Immagine Italia in co-evento che proporrà in anteprima le collezioni per la casa, tessile per l'arreddamento, intimo lingerie e da questa edizione la terza anche Nautica e Spa. La presentazione è stata curata da Camera di Commercio che realizza Immagine in co-evento in collaborazione con la regione toscana e si è svolta a Milano presso il ristorante Teatro alla Scala in Marchesino. L'appuntamento con Immagine in co-evento è dal 5 all'8 febbraio nella più prestigiosa delle cornici, la Fortezza d'Abbasso di Firenze. Grande soddisfazione per la grande affluenza di operatori, di giornalisti e di persone interessate anche all'edizione del 2010. Ad oggi le cose stanno procedendo in una maniera corretta, abbiamo un numero importante di aziende che hanno già aderito alla nostra manifestazione. Nello stesso tempo stiamo portando anche delle innovazioni perché possa Immagine Italia tutte le volte, tutti gli anni dare qualcosa a qualcosa in più. Qualcosa in più nei confronti anche delle nostre aziende, le nostre aziende pistoiesi che attraverso Immagine Italia hanno la possibilità di mettersi in vetrina maggiormente e hanno la possibilità di incontrare bayere stranieri e questo è l'impegno che anche per l'edizione del 2010 vogliamo portare avanti. Ma consentitemi di dire che è una grande soddisfazione per tutta la Camera di Commercio e tutta Pistoia. Per la Camera di Commercio in particolare per il fatto che siamo a fine mandato, con la terza edizione praticamente si concluderà il mandato dei cinque anni e un grande obiettivo che ci eravamo posto l'abbiamo raggiunto, forse l'abbiamo raggiunto anche al di là delle nostre aspettative. L'importante è che Immagine Italia ancora come è avvenuto nelle edizioni passate possa contribuire a far conoscere la nostra pistoia nel mondo. Immagine Italia, che è giunta alla terza edizione, è un piccolo scrigno colmo di grandi tesori. Sono i tesori rappresentati dal savoir-faire, dal saper fare, dalla grande abilità degli artigiani e delle artigiane toscane italiane, ma è anche un grande momento di valore economico perché la filiera della biancheria per la casa, della lingerie, dei prodotti delle spa, dei prodotti per la nautica è estremamente importante, è di valore, è di altissima qualità, sa suscitare certamente desideri e magie, ma è anche una parte importante dell'economia regionale e nazionale. Grazie 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 Grazie